amiche amici bentornati a Crestata il podcast di Federico e Danilo Gallinari siamo sempre live ladies and gentlemen un po' meno live del solito perché sono praticamente due mesi e mezzo che Rodolfo ha deciso di non dormire e qui sono un po' in riserva sai quando la macchina si accende il robino giallo della riserva sono due mesi di riserva più o meno ho beccato la riserva adesso però io sai che sono il mago delle riserve più volte ho portato la macchina al conta chilometri allo zero ma tu devi sapere che le macchine dopo lo zero hanno comunque un 15 20 chilometri di autonomia quindi tranquilli esatto ma non vi consiglio di far arrivare alla macchina in riserva per poi andare a fare fare benzina perché ti è mai capitato di rimanere senza benzina in strada mai mai ma non per colpa mia sempre ti piace vivere come si dice al vivo al massimo vado al massimo vado è the edge dani allora volevo dirti che oggi è una giornata una puntata particolare siamo siamo solo io e questa volta non ci sono ospiti ma più o meno una settimana fa ho deciso di chiedere ai nostri fans tra instagram youtube facebook e tutto di farci delle domande ci hanno fatto una lista di domande alle quali poi noi dobbiamo rispondere bello bello interessante quindi quello che voglio fare oggi è guardare un po di queste domande provare a rispondere chiaramente ti dico subito che forse ci ci serviranno un paio di episodi per coprire tutte le domande che ci hanno fatto e noi regaleremo due episodi di gran qualità sicuramente le domande sono di qualità non solo le risposte ma le domande saranno di gran qualità esatto e quindi possiamo iniziare subito con le domande queste arrivano direttamente da youtube appunto notizioni importante i denti sono a posto i ragazzi sono perfetti invisalign sono arrivati alla fine e adesso c'è il passaggio successivo volevo solo dirti questo che siamo arrivati un sorriso perfetto il passaggio successivo dell'invisalign è che mi devono togliere tutti i vari bottoni che ho sui denti pulizia dei denti dopodiché mi danno la mascherina da utilizzare di avere la pulizia ancora più importante dell'immettere a pari quei denti di no no ragazzi tanto io me li lavo la dentaglia qui tira la dentaglia e quindi niente dopo dovrò mettere la mascherina quella permanente che mi mantiene questo sorriso unico speciale bellissimo a retta di mia che è sempre che ho un gran gusto un gran giudizio di you know great judge allora manda le ciance spariamo le cagate arriviamo alle domande per cortesia prima domanda di youtube molto interessante perché questa è un'ottima domanda secondo me collezionate le canotte dei giocatori che avete giocato contro o allenato allora io devo dire che ho una collezione di magliette non non male nel senso che c'è qualche maglietta qualcuna che ho chiesto io qualcuna che qualche scambio invece che mi è stato chiesto devo dire che è una cosa che avrei voluto cominciare prima questa degli scambi delle magliette che è diventata una cosa più più comune negli ultimi anni ma all'inizio quando sono arrivato io in biene non lo faceva nessuno invece avrei dovuto farlo dall'inizio perché insomma avrei sicuramente una raccolta incredibile al giorno d'oggi ma non l'ho fatto quindi grosso errore da parte mia devo dire che però la maglietta probabilmente a cui più solo legato è la maglietta di ginobili quando ah bella bella quando giocava la virtus bologna con la sua dedica è quella probabilmente la maglietta a cui tengo di più insomma è quella più bella più importante e più bella secondo me della mia raccolta poi ho anche qualche maglietta di qualche giocatore di calcio perché il calcio il calcio comunque nonostante abbia sempre giocato a basket è importante in quanto italiani e devo dire che ho qualche maglietta importante da maglietta del capitano di Paolo Maldini alla maglietta del chiello della nazionale eh sì e quindi insomma magliette importanti no bad io ti dico che a livello di collezionare magliette ho iniziato subito infatti ho la prima la maglietta del mio primo giocatore del quale ero responsabile che è Ryan Turell saluto Ryan ciao Ryan e ho la sua maglietta della Motor City Cruise e questa è la mia prima maglietta la grande Turellata la Turellata che ha sparato un bel 30 plus è l'ultima partita degli G League ti dirò e quindi ho la sua maglietta quindi questa è la mia prima la mia unica maglietta che ho collezionato finora pian piano pian piano arriveremo sempre più magliette tra poco faremo quella di Bobby poi ce ne saranno molte altre bravo bravo fai l'errore che ho fatto io colleziona che sono belle sono bei ricordi però secondo me è bello collezionare ma mi devo far fare dedica con dedica perché collezionare si con dedica è diverso ciliegine sulla torta però già collezionare è ottimo esatto esatto però ottima domanda i ragazzi per ottimo inizio sono stati ottima domanda i ragazzi sono stati bravi te lo dico allora altra domanda abbiamo qui c'è il cellulare di fronte ragazzi ho scritto tutto il giocatore più sottovalutato con cui ha giocato Danilo è quello che ha allenato Federico eh ragazzi queste sono domande tosti più di altro perché devo devo pensare allora sicuramente uno dei giocatori più sottovalutati che mi viene in mente in questo momento ma che è anche uno dei playmaker più forti con cui ho giocato ma secondo me non gli viene riconosciuto abbastanza per quello che è stato e quello che ha fatto in NBA è il mitico Andre Miller io ho giocato con il mitico Andre Miller che era un playmaker fortissimo andava andava un po' alla sua velocità era un finto lento perché alla fine lui riceveva battere tutti sul primo passo eppure sembrava lento passatore incredibile ed era poi un ragazzo particolare adesso tra l'altro è l'allenatore della G League dei Denver Nuggets se non sbaglio esatto voglio solo buttare lì che abbiamo appena fatto un amichevole con la G League contro la G League di Andre Miller che è quella dei Nuggets e abbiamo vinto due anni che ho fatto la G League l'abbiamo mai perso però buttiamo questa questa prima notizia questo fun fact però ho beccato Andre il buon vecchio Andre è un giocatore un playmaker fortissimo secondo me tra l'altro lui quando giocavamo assieme partiva dalla panchina quindi non giocavamo tantissimi minuti assieme ma c'era un'ottima intesa bastava guardarsi è uno che parlava poco ma insomma faceva la differenza per un playmaker parlare poco bene ma non benissimo eh lo so ma non tutti i playmaker parlano non tutti i playmaker sono leader non tutti i playmaker usano la voce ecco magari molti lasciano che i parli i fatti parlino per loro capito i fatti c'è un modo di dire non ti ricordavi il detto e comunque Andre Miller bravo ottimo mi piace per me invece secondo me il giocatore più sottovalutato che ho allenato potrebbe essere il mitico Corazon no come si chiama il francese Casalon Corazon no come si chiama cazzo Casalon grande ma non so neanche dov'è adesso il trutto non so neanche se più nella G-Ligo no perché noi da non avevamo scambiato il ragazzo si è andato a giocare l'oratore di Raffiniana esatto il ragazzo che invece è sottovalutato che potresti conoscere anche lui un playmaker definito anche Captain Hook ah il mitico il domber che fa il gancio cielo grande esatto Xavier Simpson si si lui bravo che secondo me lui è un un ottimo giocatore è un leader perché è un playmaker molto vocale parla parla molto con la squadra ti tiene sempre attento sul pezzo Romania in Romania vuoi giocare? si si grande Romania che mi sa che questo è rinnovato anche per quest'anno però l'ultimo anno in Romania però secondo me è un giocatore interessante un gran lavoratore purtroppo non si vede molto perché non è un playmaker altissimo quindi magari non dà tanto all'occhio però secondo me come giocatore è incredibile potrebbe sparare una doppia doppia partita 15-10 ti dirò ti dico così allora domanda interessante ti occhio alla prossima domanda allora questa domanda andiamo con calma sono bellissime domande facciamo con calma anche 3-4 episodi molto belle bravi esatto allora tu vabbè secondo me non segui tantissimo i nuovi talenti italiani non li conosci tantissimo perché mi hanno sparato un nome che non è male ti dirò tienilo d'occhio io te lo voto lì Michael Perez tienilo d'occhio chi? allora Michael Perez tu tienilo d'occhio Michael Perez tu tienilo d'occhio Michael Perez sempre col melez esatto all'ora come funzionano più o meno i giorni in NBA in cui non si gioca ma i giorni in cui non si gioca allora innanzitutto dovete sapere che nel contratto CBA ovvero il Collective Bargaining Agreement che è il contratto che c'è tra i giocatori NBA o meglio l'associazione giocatori e l'NBA quindi i proprietari delle squadre ci sono dei giorni mandatory cioè dei giorni di riposo obbligatori che non mi ricordo qual è il numero però ci sono dei giorni di riposo obbligatori che le squadre devono dare ai giocatori potrei dirvi 13 ma magari mi sbaglio e invece insomma nei giorni dove non si gioca ci si allena oppure se sono giorni di riposo ognuno gestisce un po' la sua giornata io devo dire che anche nei giorni di riposo sono sempre andati in palestra anche perché penso ci sia sempre qualcosa da fare soprattutto nelle palestre che abbiamo sai puoi fare saune idromassaggio bagno turco massaggi cioè voglio dire non è solo la palestra d'allenamento puoi fare tante altre cose scusate ma non solo puoi anche per esempio una cosa che io facevo spesso a Denver era andare negli uffici sederti con coloro che lavorano per la società e fare lezione quindi andare da colui che è l'esperto del salary cap e fare un'ora di lezione o di più gratis con loro che sono molto contenti di insegnarti cose che potrebbero servire in futuro e imparare nuove mansioni nuove cose è una cosa che consiglio di fare a tutti i giocatori in pochi la fanno capisco che quando sono i giorni di riposo la prima cosa che viene in mente non è quale andare negli uffici ai piani di sopra a imparare però è una cosa utile ecco quindi era una cosa che facevo e o se no insomma se sono giorni di allenamento poi ci sono anche giorni di allenamento di squadra dove ci si allena chiaramente non si fa dipendere dall'allenatore perché ad esempio noi io quando ero a Denver con coach Carlo coach Malone si giocava anche nei giorni di allenamento 5 contro 5 a tutto campo con altri allenatori invece molto più tranquilli non si faceva mai 5 contro 5 ma si faceva magari un po' di tiro e ripassare qualche schema ma cose molto tranquille ecco quindi dipendeva anche un po' da allenatore sì no esatto noi con i giocatori negli ultimi anni le cose che ho visto di più sono i famosi blackout days ovvero i famosi giorni dove i giocatori nessuno giocatore è ammesso sul campo da basket quindi possono andare a fare i propri trattamenti massaggi acqua calda acqua fredda ma non possono far tiro niente sul campo da basket blackout days altri giorni che si chiamano get what you need me l'ho stranuccio esatto i famosi get what you need ovvero ci sono gli allenatori a tua disposizione per far tiro sul campo i workout se si vuole fare i workout o puoi andare in palestra e fare quello di cui hai bisogno che sia film che sia trattamenti eccetera dopodiché invece quest'anno abbiamo il famoso il practice day dove ci alleniamo dove però in realtà siccome giochiamo e si viaggia così tanto diventa più un clean up cos'è il clean up il clean up per gli allenatori esatto per gli allenatori costituisce in una giornata dare una ripulita ai vari cervelli esatto dare una ripulita ovvero guardare film di quello che si è sbagliato nella partita scorsa per poi fare due stazioni di attacco e di difesa per diciamo lavorare sugli errori che sono stati fatti nella partita precedente sia in attacco che in difesa questi clean up mi fanno impazzire perché fai i clean up e poi dopo i giocatori in partita risporcano e quindi devi ripulire esatto e niente è bello che c'è c'è Tobias che sta lavorando con un allenatore un shooting coach che è il suo allenatore del tiro e il ragazzo mi sono seduto ha una concezione un'idea molto diversa del tiro ti dirò secondo lui anche nell'allenatore di tiro di Tobias perché sai che Tobias tira la palla un po' flat non è che c'è proprio una gran parabola tira un po' dei laser un po' dritti e questo allora ho parlato con il suo allenatore del tiro e lui ha un'idea un po' interessante sul fatto della parabola di tirare la palla dritta potremmo invitarlo perché è un'idea molto interessante la biomeccanica del tiro ma dobbiamo aspettare di invitarlo non ce la spieghi te no aspettiamo di invitarlo perché la sua teoria è un po' diversa da come la penso io sul tiro quindi meglio che lo invitiamo che la spiega bene lui perché lui la sa spiegare molto meglio per un invito su nuove teorie del tiro esatto quindi questi sono un po' i giorni dove come affrontiamo i giorni di allenamento quando non giochiamo altra domanda che a te piacerà tantissimo perché sai che i nostri i nostri fans non hanno imparato a conoscerti che libro consiglieresti caro Dani ebbè ebbè vedi che adesso preparati allora attenzione attenzione perché il libro che vi consiglierò anzi non so se posso consigliarlo perché è un libro un po' particolare è un libro un po' un po' un po' spinto Soratis un po' Soratis è un po' è un po' insomma si spinge molto soprattutto su la storia è un libro scritto da un non vi dico non vi dico il libro vi dico solo il giornalista l'autore che è anche un giornalista che ha una storia molto particolare insomma una volta che vi dico il nome andate a fare le vostre ricerche e capirete perché ha una storia particolare perché è un libro un po' così però lui si chiama Bill Browder è un personaggio molto particolare e ha scritto un libro veramente bello dove si parla un po' anche di politica geopolitica equilibri tra paesi insomma è un libro molto bello che racconta delle cose abbastanza allucinanti delle cose ve lo consiglio ecco un libro che un libro non vi dico il titolo perché tanto una volta che andate a cercare il giornalista capite di che libro sto parlando anzi ne ha scritto i due effettivamente di libri importanti ma sono tutti e due legati e quindi ve li consiglio tutti e due però fate due ricerche su Bill Browder attenzione perché Dani te fai parte di un book club si faccio parte di un book club siamo più o meno una ventina di persone e ci ritroviamo ogni tre mesi leggiamo un libro ogni tre mesi e ci molti sono a Los Angeles quindi si trovano direttamente per fare un bel barbecue con Zoom per chi non può presenziare al barbecue e parliamo del libro che leggiamo incredibilmente spesso riusciamo anche ad avere come ospite collegato l'autore del libro a volte insomma i ragazzi che sono quelli che organizzano di più sono riusciti ad arrivare all'autore non so come però una figata abbiamo letto libri però adesso abbiamo non so quanti ne avremmo letti 15 mi ricordo tutti libri molto belli devo dire tutti libri molto belli questo autore che hai appena letto arriva dal consiglio del book club esatto 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 e vi dico solo che abbiamo avuto l'onore non so come questa volta siano riusciti abbiamo avuto l'onore di avere per 45 minuti Bill Browder in connessione con noi vi ripeto una volta che fate le vostre ricerche su di lui capite quanto incredibile possa essere stato avere lui connesso per anche mezz'ora 45 minuti incredibile no bad ragazzi allora io invece di libri purtroppo non ne leggo non sono un gran leggitore di libri ma potrei consigliarvi una newsletter penso che si dica lettore ma non leggitore però diciamo esatto I'm a reader dal vocabolario di Federico Gallinari leggitore leggo tutti i giorni una newsletter da cui mi sono iscritto con l'email che si chiama The Quad Shot ok ogni mattina mi mandano una mail dove parlano di qualcosa di magari raccontano una storia ho solo un messaggio motivazionale che insomma ti aiuta un po' a affrontare la giornata ti dà più energia eccetera ve la consiglio perché è molto bella ci sono dei messaggi molto interessanti parlano spesso anche di basket ed è molto bello The Quad Shot però di libri purtroppo ragazzi non leggo molto dovrei leggerli più alla prossima domanda stiamo andando in Italia mi sa che qui ci serviranno veramente una decina di episodi per rispondere a cazzo ce ne frega esatto allora questa è bella anche di domanda come dire la gente che fa queste domande su YouTube interessante grazie i follow sono i migliori quali sono gli esercizi preferiti di Danilo da fare in un workout e quali quali che propone più spesso Federico bella questa domanda allora devo come a me piace molto riscaldarmi facendo prima un po' di ball handling che si strecciano bene le dita le mani le abbracce le braccia inizia a prendere un po' di confidenza con la palla poi mi piace fare un po' di sottomani un po' di gancetti un po' di tirelli da vicino poi faccio un esercizio che faceva il mitico Jerry West che lui per calibrare gli occhi nel suo riscaldamento prima di fare qualsiasi tiro tirava da vicino ma di tabella appena fuori dall'area tirava 20 tiri di tabella da una parte 20 tiri di tabella dall'altra per calibrare l'occhio e allora mi piace fare questo piccolo riscaldamento qui e dopo aver fatto i tirelli di tabella i sottomani i gancetti un po' di micans si facevano per i lunghi si facevano i micans ma gli fa anche Steph Curry per riscaldarsi un attimino vicino da canestro e poi dopo si inizia a aumentare un po' il range a fare un po' di movimento a me devo dire che mi piace molto di più allenarmi dal palleggio nel senso che catch and shoot quindi ricezione a tiro è una cosa che mi viene semplice ed è una cosa che normalmente è più facile invece il ritmo dal palleggio di tiro e giocare uno contro uno sono secondo me soprattutto l'uno contro uno una cosa molto sottovalutata ma che secondo me fa la differenza per me ha sempre fatto la differenza e giocare uno contro uno a fine allenamento è una figata perché soprattutto quando giochi pochi minuti o se è un giocatore che viene dalla panchina non giochi tanto il miglior modo per tenerti per allenare i propri istinti è quello di per allenare la muscle memory è quello di fare uno contro uno a fine allenamento e una cosa che poi ho sempre fatto e che consiglio a coloro che vogliono aumentare le proprie percentuali dal tiro libero è fare tiri liberi ad occhi chiusi quindi a fine allenamento fare dieci realizzati ma con gli occhi chiusi no bad no bad interessante mi piace mi piace allora io quattro cose tocco sempre nei miei nei miei workout la prima è finishing che come posso dirlo in italiano è come si può dire finishing in italiano quando uno va a finire a canestro finire a canestro esatto sì finire a canestro tiri da sotto però sempre con qualcuno sotto canestro a fare un po' di contest in modo tal che ti attivo un po' la testa ti attivo il tocco mi piace lavorare dalla linea di quattro punti quando faccio il catch and shoot la linea di tre punti ci sta molto bello mi piace tanto tirare a tre punti ma mi piace ancora di più noi abbiamo una linea da quattro punti quindi quando faccio esercizi di tiri catch and shoot provo sempre ad avere i tiratori un pochettino più lontani rispetto alla linea di tre punti anche perché in NBA tirare proprio da tre punti e a tre punti non è mai semplice di solito si tira da un puntino indietro perché faceva fare il mitico Sasha Georgevic quando mi allenava a Milano mi diceva sempre che quando tu fai un po' di tiri da tre punti e vedi che non tiri bene è perché non stai usando le gambe allora cosa fai tu fai due passi indietro automaticamente il tuo corpo non è abituato a tirare da così lontano e dice beh per provare ad arrivare al ferro devo spingere con le gambe quindi fai quattro o cinque tiri due o tre passi indietro così le gambe si risvegliano poi ti rimetti su ogni tre punti e dovrebbe essere un po' più semplice dovresti ritornare in ritmo più velocemente esatto chiaramente prima di arrivare a tirare a quattro punti faccio sempre gli esercizi per partire un po' dal mid range per andare ai tre punti però altre due cose che tocco sono l'uno contro uno che bravissimo Dani mi è piaciuto tantissimo quello che hai spiegato l'uno contro uno secondo me è fondamentale nei workout per sempre mantenere un po' quell'istinto di giocatori di basket e l'ultima cosa che faccio sempre alla fine di ogni workout anche dopo i tiri liberi sono tre swishes da sotto canestro una volta che finito tutti i tiri liberi ti faccio inire sotto canestro devi fare tre tiri però solo rete queste sono le quattro cose che tocco sempre nei miei workout mi è gustare ragazzi prossima domanda passioni anche fuori dal basket vabbè ragazzi qua non so se abbiamo tempo per questa qua è lunga questa è lunga potremmo anche possiamo rispondere a questo o spostarci su altre domande questa è però una bella domanda secondo me no ma siamo già a mezz'ora eh tranquilli tranquilli potremmo anche se arriviamo a mezz'ora 35 minuti quindi vai dimmi l'ultima vai passioni anche fuori dal basket allora la primissima è quella di viaggiare mi piace viaggiare mi piace viaggiare in giro per il mondo quando ancora ero single che non avevo famiglia con Fede o con mio papà eh per 20 giorni d'estate andavo in due paesi al mondo dove non ero mai stato quindi ho fatto abbiamo fatto tanti viaggi assieme bellissimi quindi sicuramente viaggiare è la mia passione più grande e poi mi piace generalmente giocare gli sport in generale quindi sono mediamente scarso in tutti gli sport quindi tennis golf pickleball paddle ping pong insomma nuoto mi piace fare tutti gli sport altre passioni che non siano sport sicuramente leggere leggere mi piace quando ho tempo fare due letture due letture rilassanti è bello non saprei altre robe non so a me piace hai detto bene anche viaggiare questi viaggi sono stati viaggi fantastici io sto cercando di continuare a portare avanti la possibilità di vedere due paesi diversi ogni estate che non sono mai stato quindi viaggiare assolutamente sì è quello che mi piace fare invece è andare al cinema guardare i film mi piace tanto andare al cinema a vedere film horror soprattutto anche andare da solo e relax è la stessa passione dell'Eleonora ma siete matti bellissimo anche da solo lì i pop corn ma guardarmi sto film horror bellissimo io ho un ricordo di un film horror che avevo visto da solo tra l'altro non mi ricordo il titolo mi ricordo solo che c'era questi due ragazzi che andavano in vacanza non mi ricordo dove venivano impasticcati in discoteca portati portati in un posto li legavano a una sedia li tagliavano i tendini da chille e gli dicevano di alzarsi ah cos'è so non è so bravo forse so bravo una roba bellissima una delle salle sto solo si immagina una roba bellissimo so è uno dei film horror thriller più belli è una saga bellissima Dani ti farò riconcludere con questa domanda che ci hanno fatto che è molto bella facciamo la prossima no no questo è bellissimo che incredibilmente è un video la prossima che devo andare no ho capito due minuti dammi due minuti due minuti due minuti ti chiedo molto veloci c'è ancora il famoso video tuo famosissimo che va virale e allora ci chiedo racconta la storia dell'intervista spot dove hai detto ma innanzitutto devo dire che questa intervista è diventata più famosa adesso ma la verità è che mi sarebbe piaciuto diventasse famosa quando l'avevo fatta più dieci anni fa allora quello era il periodo dove andavano di moda i power drinks e invece che fare un power drinks in una lattina in una bottiglia avevano fatto delle presenti il tuo email hai presente l'isterine l'isterine fanno delle delle cosine che tu metti sulla lingua e si dissolvono sulla lingua e quindi dei teli dei piccoli teli e quindi il concetto era quello fare dei piccoli teli che si dissolvono sulla lingua ma agiscono da power drink da energy drink e siccome in inglese si dice shit allora si giocava sul mio accento sul mio accento il fatto che io non sapessi dire shit o shit differenziare merda con lenzuolo praticamente quindi il tutto è stato quello è lo spot pubblicitario interessante ragazzi mi spiace non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande ma faremo altri episodi per rispondere a tutti se avrete alla fine anche di questa puntata mi raccomando lasciate like condividete e commentate alla prossima ciao fuori dal blocco prendo la palla tiro da tre i due fratelli spiegano il gioco solo per te apri le ali a testa alta segui il podcast gallina aria crista alta questo è il podcast